Cosa è dovuto a questa sua riluttanza nei tuoi confronti? Riluttanza? Sì, questa vista, questo fatto che ti respinga, qual è la causa di questo mancato incontro? Ma secondo me lei è molto tranquilla, nel senso, lei è molto pulita. Grazie a Neri per aver tradotto, grazie ragazzi. Grazie a tutti.